Mario Desiati, giovane scrittore, in Italia siamo giovani fino a 50 anni quindi sei ancora un giovane scrittore però ormai con una produzione piuttosto cospicua. L'ultimo libro è il libro dell'amore proibito ed è di questo che parleremo oggi. Un libro dal titolo difficile e dal contenuto ancora più difficile. Come mai hai scelto questa storia Mario? Perché volevo scrivere un libro in realtà sugli amori proibiti, raccontare diverse storie in cui l'amore veniva messo in condizioni molto estreme da ragioni di vario tipo, religiose, legali, generazionali. Poi alla fine ha prevalso una storia sulle altre, che è la storia dell'amore che tento di raccontare fra uno giovanissimo studente e la sua insegnante che nasce come una semplice infatuazione ma poi nel corso degli anni diventa qualcosa altro. E poi mi interessava raccontare profondamente come la mia ossessione e il desiderio. Penso che ognuno di noi coltivi da qualche parte un desiderio che a volte ritiene che non possa praticare perché o il tempo è già passato oppure si è ancora troppo giovani. In realtà il libro è un po' invece la parabola di chi questo desiderio lo vive fregandosene degli anni che ha. Come hai affrontato questo argomento che rischiava di essere così delicato? Insomma un ragazzino delle scuole medie e la sua professoressa? Ma in realtà il libro è uscito da quasi un anno quindi vuol dire che chi lo ha letto ha capito insomma l'argomento è trattato in maniera talmente sopra le righe e allo stesso tempo con un certo tipo di relazione che poi in realtà sfocia quando i due protagonisti rientrano nella legalità perché la scintilla nasce quando lui è un ragazzino ma poi l'amore si sviluppa e si solidifica quando è diventato un adulto anche se poi lui rimarrà sempre con la testa un ragazzino di 14-15 anni e la sua insegnante rimarrà sempre anche lei quando è una ragazzina di 14-15 anni perché poi penso che il tema del libro è che ognuno ha una sua età che non è biologica. Sulla carta di identità è scritto che noi abbiamo 20-30-40 anni ma forse 60-70 ma poi in realtà il nostro cuore ha sempre un'età diversa. Questo è assolutamente vero anche perché tu descrivi Donatella veramente come una ragazzina rispetto per esempio al parterre degli altri docenti. Una cosa che è comune nelle tue storie è la tua terra. In tutti i tuoi libri in qualche modo c'è la terra di Puglia. Come mai? Perché quando racconto una storia sono sempre innamorato di qualcuno o di qualcuno a volte è proprio il mio paese e non riesco a raccontare una storia per rabbia o per odio. Riesco sempre a raccontare una storia spinta da questa forma di innamoramento. Involontariamente perché questo libro poteva essere ambientato ovunque, poteva essere ambientato a Roma, New York, Praga, ambientato a Martina Franca. Quando l'ho iniziato a scrivere non vedevo altro paese se non quello da cui provengo. Quindi insomma è legato più a una scelta sentimentale. Forse direte troppo sentimentale, non lo so. Ultima curiosità. Spesso nei tuoi libri ci sono delle donne estreme. Delle donne che esulano la quotidianità, la banalità, le donne che siamo abituati ad incontrare o a vedere o a leggere. Sono donne sempre con una forte carica vitale e sessuale. È una spinta che va al di là delle regole. Sono le donne che amo, le donne di cui mi innamoro. Più che le donne direi tutte le persone che hanno una profonda libertà, che hanno una visione delle cose totalmente fuori dalle convenzioni, seguendo appunto le proprie ossessioni, i propri istinti. Insomma, poi rispetto alle cose che poi magari scrivevo più avanti, ancora non avete visto niente. Allora aspettiamo di vedere queste cose. Ci anticipi qualcosa? Come si dice in pugno, ancora non avete visto niente. Insomma, temi che ho, mie ossessioni che ho sempre tenuto, demoni che ho sempre tenuto a bada, ma penso che poi a un certo punto bisogna metterli in pratica, raccontarli. Bene, allora aspettiamo i tuoi nuovi demoni. O come dice Dostoyevski, demoni. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie.